buongiorno a tutti gianvito d'angelo 5 maggio diretta live dai mercati e oggi il nostro focus vedete sul yen dollaro quindi il cross tra yen giapponese e dollaro americano perché vedete il trend di lungo ovviamente è short ma se noi andiamo vedete ci avviciniamo adesso vedete guardiamo quest'ultimo scorcio da dicembre ad oggi vedete quindi questi 4 o 5 mesi abbondanti vedete che il mercato lo capiamo dalle bollinger lo capiamo anche dall'appiattimento delle medie è in una fase in cui sta sta cercando di trovare sia pavimenti vedete e sia supporti quindi scusate e resistenze quindi in questo caso soffitti allora vedete qual è l'idea l'idea è che il mercato vedete in proprio in questo momento che sta quotando 83 16 e quindi vedete stia tentando il breakout vedete di questi minimi delle sedute precedenti quindi quello di ieri lunedì e poi quello di venerdì vedete che sta proprio qui sotto in area 83 15 possa in qualche modo fare la stessa cosa vedete che ha fatto qui quindi questo è un principio di simmetria che in coaching usiamo spesso con tutto il team di persone che fa trading e cioè un mercato che in qualche modo ci dà una sorta di input quindi ci crea una sorta di stimolo indotto a fare una certa cosa quindi in questo caso l'idea è quella che molti potrebbero appunto essere tentati di entrare short ma poi vedete se ne allargiamo il grafico ci rendiamo conto che a parte il fatto per vedere il mercato lo ha fatto anche qui guardate candela rossa candela verde inside e candela poi che va a rompere prima i minimi di tutti e due giorni e poi soltanto dopo di sale vedete che qui è candela rossa candela verde inside e candela che rompe i minimi forse non solo di un giorno ma magari anche del secondo e poi magari prova improvvisamente e inspiegabilmente per alcuni a cambiare idea infatti vedete che su quest'area se noi andiamo allarghiamo un pochino il grafico vedete abbiamo anche questi questi altri minimi qui molto importanti vedete quindi tutta quest'area che è intorno a 82 85 per la parte bassa vedete la parte alta siamo qui intorno a 83 15 quindi quei 20 30 35 tic dove andare a cercare appunto delle conferme per per capire se l'idea che stiamo avendo in questo momento è buono l'altro nel mercato sono cinque mesi che sta fluttuando ripeto fra questi estremi e in questo caso è interessante perché ci stiamo abbassando sull'estremo inferiore questo è quanto per quanto riguarda appunto il mercato di oggi commentate il mio video fatemi capire se in qualche modo vi è stato d'aiuto chiaramente lo sarà molto di meno per quelli che non hanno mai fatto coaching ma l'idea è comunque quello di dare a chiunque spunti a livello operativo per capire e per fare in modo che le persone siano consapevoli che ci sono delle dinamiche di prezzo che vanno addirittura contro a volte quello che noi saremmo portati a pensare c'è ad esempio che sotto dei minimi si va short e che sopra dei massimi normalmente le persone sono abituate ad andare long bene questo è quanto vi saluto ci vediamo direttamente domani Gianvito D'Angelo diretto live da mercati per contattarmi potete chiedermi l'amicizia su facebook perché questo è il luogo dove normalmente interagisco con le persone che mi seguono oppure per chi non dovesse usarlo potete mandarmi un'email all'indirizzo che vedete in sovraimpressione vi ringrazio Gianvito D'Angelo a presto